Capisco che entra in questo senso. Il 18, la Stato di San Matteo, Ibraccio in particolare, entrerà nel comune di Salerno, un momento di crescita per tutta la collettività? Io ho chiesto al Vescovo, con grande amicizia e grande rispetto e considerazione, che la Stato del Santo entri nel comune come una nostra consuetudine di anni, di anni, non è che ce lo siamo inventato l'altro giorno, ne credo che questo... Lei sta parlando proprio del giorno della processione? Sì, sì, proprio del giorno della processione. Come sempre è stato. Poi dice, no, non si può fare. A me sembra francamente qualche cosa sulla quale il Vescovo, nella sua totale autonomia e nel profondo rispetto che io, delle sue prerogative, possa rivalutare. Perché se noi mettiamo il Santo nel cortile una giornata intera, non capisco perché non possa entrare durante la processione, che invece è un fatto di popolo. Il Santo entra, riceve l'omaggio della città, intesa come massima istituzione cittadina, il Consiglio Comunale, poi benedisce i cittadini, benedicendo il comune, benedice tutti, e poi sì, oltre a tutti si è fatti giro nei quartieri, è andato dappertutto, non capisco perché francamente non lo capisco, lo dico senza... con il massimo rispetto, credetemi veramente con il massimo rispetto, perché non posso entrare durante la processione nel Palazzo di Città. Ma certamente, credo che invierò, ho già inviato una lettera al Vescovo per sollecitargli una riflessione con grande garbo e grande umiltà, gli chiedo di fare una riflessione su questi argomenti che vi ho appena accennato. Grazie. Grazie.